Musica Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Battle4Games Io sono Carlo e oggi siamo qua tornati su Battlefield 3 Siamo tornati sul PC dopo aver fatto un gameplay sulla Playstation 4 su Blacklight Oggi siamo qua ragazzi per presentare una nuovissima serie che chiameremo Road to First Place Ovvero l'avete già capito Consiste nel arrivare al primo su Battlefield 3 almeno una volta Poi dopo anche se arriveremo Mettete ragazzi che arriviamo primi già subito oggi con la prima partita Lo continueremo fin che vogliamo Non ha una fine questa serie La chiamiamo Road to First Place così perché mi piaceva il nome Quindi ragazzi buttiamoci subito nella mappa E iniziamo a fare la strage perché dobbiamo arrivare primi Quindi pronti iniziamo a fare a uccidere dei nemici Senza far troppo macello sto usando l'M416 Un nemico è andato L'abbiamo già fottuto uno subito mi sembra giusto Io inizierei ad andare in mezzo ai container perché se no non troviamo nemici Speriamo che i nostri compagni ci rianimino Come cacchio si dice vabbè Siamo su Battlefield Oh mio dio Bohia mi ha shottato questo col Peck and Egg Scusami eh Amico non volevo proprio Intanto tiriamo granata random Non si sa mai una botta di culo Per fare punti Allora Oh c'è l'importante è che lo uccido Allora Se io rianimo le persone Faccio anche degli altri punti Quindi bisogna rianimare ragazzi Giochiamo di squadra Su Battlefield 3 Scusami Non è così giocare di squadra intanto Questo è un nemico No questo è un nemico Muori Non è morto Su Battlefield 3 Se giochiamo di squadra Arriveremo sicuramente primi Là c'è un piccione alleato però È alleato Ok No Dov'è Fugatela Tipo io vado qui Rianimo lui E poi scappo E poi Che cacchio ci fa quel camper qui nell'angolo Ok Molto buono No 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 davvero Giusto così Hai fatto la giusta fine amico Perché no Non è possibile Che uno stia camperato Sdraiato Oh granata L'ho vista troppo tardi Stiamo usando l'M416 ragazzi Perché non è un'arma Né troppo scarsa Né un'arma troppo nabba Quindi Se io sparo Le persone glitchate Fuga Muori C2 Là Come cacchio Mi ha shottato Con l'F2000 È impossibile What the fuck No 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 Adesso qui Ragazzi inizio a fare le mie solite Strage Amico mio Ok Guarda il camperino Nell'angolo Nel mentre che ricarico Non ci credo Ragazzi Ragazzi siamo nel servo sbagliato Per arrivare prima C'è della gente nabba ovunque Muori Ma guarda tutta la gente Che sta camperata E intanto Mi sto facendo la strage Siamo secondi Raga Dai Dai Che arriviamo in primi Siamo È un server 350 ticket Questo è amico Dobbiamo cercare di capire Eccoli qua No 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 Non l'ho visto Questo Non l'ho visto Ok Sono forti I nostri nemici Ragazzi Perché ci stanno devastando Ma guardatelo ragazzi Ma non è mica possibile Una cosa del genere Allora Una cosa è certa Non riusciremo a fare L'obiettivo Della serie subito qui Perché Qua c'è della gente nabba E se vabbè raga Però c'è anche sfiga Ne siamo ancora secondi Il bello è quello E la cosa triste È quella Siamo secondi Ci sono dei camper ovunque Fuggatela Grande Che l'hai Sì Andiamo così E andiamo Non così Non andiamo così Perché fa cagare Dai che ci rifacciamo Svado di qua Muori Non muore Siamo ancora secondi Il primo della nostra squadra È un pro Perché ha mille punti Più di me Quindi vai Non mi interessa Arrato L'importante è che arriviamo primi Cioè Dobbiamo cercare di arrivare primi Quindi io rianimo E scappo Vai raga Fugga Facciamo il giro di qua Qui c'è uno L'ho visto E l'ho sentito Ce ne sono tre No No Era quasi una doppia Questa raga Questa era quasi doppia Dai Sbaglie No No Non ci credo No Non ci credo Sponchila anche E poi si sdraia per terra Si glicia in mezzo al muro No No Non è mica possibile Vai Torniamo a fare della stagia in mezzo ai container Bella Quello è rialleato Eccolo Ogni tanto saltare fa bene Vedete Guarda che tira Animo amico Tieni Ok Grandissimo Grandissimo Gioco di squadra Sono tutti camperati ragazzi Loro Sono tutti camperati Guardali Sono ancora là sopra quel cazzo di Eh vabbè Sono tutti camperati sopra quel cavolo di container Se vi tirassi una granata e vi centro in faccia Ma come inizio a ridere Guardalo Muori Non muore Ci ha fatto una cross the map Con la granata La doppia raga Ti rianimo anche Questo è un nemico No Quello era un alleato Sorry man Qui muore la gente E ce n'è uno lì E l'ho ucciso però Stiamo recuperando eh Ma siamo 600 punti indietro Dai raga Siamo 300 punti indietro raga Ce la facciamo Uno di spalle è grandissimo Quelli di spalle fanno sempre comodo Dov'era questo? Ah Sempre camperati nell'angolino Mi sembra giusto no? Va bene Va bene ragazzi Portiamo pazienza Dai Muore Stronzo No è perché io ho tirato la granata e non gli ho sparato Gli ho tirato la granata e non gli ho sparato raga Muori Muori Non muore E poi lui mi fa headshot e si campera nell'angolo No forse non si è camperato nell'angolo Ah raga Avevamo recuperato Adesso siamo 800 punti indietro Dai Ce la possiamo ancora fare Sì vabbè Oh l'ho ucciso Non so come ho fatto Là Si va di no scopra E una botta di Me ne sono sbucati due Non so da dove Va bene Una botta Ci vogliono delle botte Di culo in questo gioco Dai Dai Tipo quei No Via Ce ne erano troppi Questo è stato uno scambio di bar Ti rianimo E ti uccido Sì Dovevo accoltellare quello Dai Sono concentrato Io vado di qua E uccido questo Che non muore Perché è un lai Guarda te No non ci credo Non ne ho ucciso neanche uno Neanche uno E sono primo Dai ha quittato il primo Vai raga Una botta di culo Una botta di culo Uccidante L'avevo detto che c'era Ti rianimo Big partita Best partita Ragazzi ha quittato il primo Lol Un lol ci sta Siamo Vabbè Però era Non ha senso Per effettivamente Cioè se quitta il primo Vabbè Facciamo che questa Se dovesse arrivare primo E non la compiamo Perché c'è Le No Siamo primi ragazzi Tranquilli Siamo praticamente No non praticamente Siamo 2000 punti avanti Agli altri Quindi ormai questa partita È fatta Però ripeto Non mi è piaciuta Perché Ah One shot Monkey light shot Sembra giusto Una volta ogni tanto Mi capita anche a me Ripeto Non sono soddisfatto Perché Il primo ha quittato Voglio Mi hanno Vabbè Che avevo Praticamente Un per cento di vita Quindi Tranquilli Proprio Ragazzi la partita è finita Siamo arrivati primi Abbiamo perso Quindi ragazzi Prima partita È andata Diciamo benino Perché In teoria Non so Magari ce la facevo lo stesso Ad arrivare primo Però il primo ha quittato Quindi Vabbè Siamo arrivati primi Per una botta di culo Allucinante Quindi ragazzi Il prossimo video Arriverà sicuramente Dovremmo cercare Di arrivare primi Stavolta Sperando che nessuno Ci quitti davanti Ragazzi Se la serie vi piace Lasciatemi un bel like Così capirò Se continuare o no Ma sicuramente ragazzi La continueremo Ma voi lasciatelo Lo stesso Like Condividete questo video Per farci crescere E per supportarci 100% Oltre che Di iscrivervi Ovviamente Quello lì È la cosa fondamentale Che dovete fare Per farci crescere Ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Lasciatemi un commentino Qui sotto Io vi saluto Ragazzi Ciao Ciao